Rimarrà aperta al pubblico fino al 18 febbraio nel loggiato Cerulli a Giulianova la mostra La razza nemica, la propaganda nazista e fascista curata dalla Fondazione della Shoah di Roma. L'esposizione promossa dagli assessorati alla cultura e alla pubblica istruzione del comune di Giulianova in collaborazione con il Polo Museale Civico rientra nel programma dedicato al giorno della memoria. La mostra si propone di analizzare il fenomeno della propaganda antiebraica che ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione dell'ideologia razzista e antisemita che portò alla persecuzione e allo sterminio di milioni di ebrei in Europa. Attraverso pannelli, foto, documenti, manifesti e filmati la mostra mette a confronto le due diverse connotazioni che si svilupparono nella Germania nazista e nell'Italia fascista, evidenziandone sia le differenze ma anche le analogie e i legami. La mostra si articola in quattro sezioni, la prima intitolata La razza nemica, mostra come la propaganda nazista e fascista cercò di creare un'immagine negativa e distorta degli ebrei, attribuendo gli stereotipi, pregiudizi e colpi infondate. La seconda intitolata La persecuzione illustra le misure legislative e repressive che furono adottate nei due paesi per discriminare, isolare e privare di diritti gli ebrei. La terza intitolata La deportazione racconta il dramma dei trasporti ferroviari che portarono gli ebrei dai ghetti ai campi di concentramento e di sterminio. Infine, la quarta intitolata Lo sterminio documenta le modalità e le dimensioni del genocidio perpetrato dai nazisti e dai loro alleati.